ragazzoli buongiorno a tutti buongiorno a tutti ragazzi iscrivetevi al canale gratis non vi viene non si blocca un ritorno cliccavi l'iscrizione clicca l'iscrizione la campanella è la cosa più importante e nelle info ci sono tutte le mie informazioni youtube facebook ma io ho sentito il c il ct della nazionale mancini la nessuna favorita what the fuck nessuno cioè noi ci lamentiamo di allegri quando parla che lo spezia bisogna avere rispetto pazienza c'è italia macedonia nessuna favorita mancini mancini sta ammazzando a me tu pigli sta macedonia stasera pigli un bello curtillo un bello coltellino la tagli ho poche di zucchero ho poche di acqua e ce la mangiamo ce la mangiamo io voglio andare ai mondiali a me non me ne frega un cazzo chi è la favorita stasera si deve vincere mancini 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 un cazzo ti chiami oh se non fai ai mondiali è fallimento fallimento non voglio sentire un cazzo hai messo un'altra volta la rigorista giorginio per l'amore di di io non l'avrei mai tolto però ma non andiamo al mondiale perché giorginio sbaglia un altro rigore ti vengo a pigliare cazzotti nella nuca nella nuca per non essere più volgata vai giù un solo grido questa sera vincere e vinceremo oh dobbiamo andare al mondiale perché io senza juventus non non oso immaginare non oso immaginare quindi fatemi stare quieto quieto e portate questa cazzo d'italia ai mondiali ok non voglio sapere nulla nulla dove portare l'italia ai mondiali stop stop iscrivetevi al canale condividi lasciatevi bello